Ciao a tutti e benvenuti da Brunella Smile Forever, quest'oggi ci troviamo nella mia città, la città di Somma Vesuviana, una delle città favolose, sì, perché oltre ad essere una città a conservare veramente dei tratti sia culturali, sia artistici che archeologici, ci sono anche tantissime favole raccontate proprio in questa città Somma Vesuviana. Oggi sono qui per presentare il progetto My Life, My Life in the World, perché siamo in collaborazione con una rete televisiva del Brasile, dove hanno accolto il mio progetto, il progetto di benessere culturale, artistico e musicale, ecco, e quindi saremo in collaborazione con loro anche in diretta televisiva. Stiamo parlando del programma che sarà condotto da Tony Di Terlizzi dal Brasile e noi qui dalla provincia di Napoli salutiamo tutte le persone che vivono lì, ma non solo, anche tutte le persone che vivevano a Napoli, ma poi sono andati a vivere lì per lavoro. Noi da Napoli, dalla provincia di Napoli, ma è bene, da Somma Vesuviana, un abbraccio a voi tutti. Vogliamo parlare di questo progetto, ecco, è un progetto che è nato praticamente durante proprio la pandemia che ho ideato e ho voluto presentare e coinvolgere tutte le persone sia del web, ma non solo del web, ma anche le persone, le mie amiche, tra le mie conoscenze, è un inno alla vita che ho praticamente idealizzato proprio come dicevo in questo periodo di covid, dove tutte le possibilità di lavoro sono state ristrette, alcune addirittura chiuse, ecco, e quindi io mi sono dedicata un po' al giardinaggio, a piantare, a seminare, perché nel mio futuro intendevo raccogliere questi frutti che avevo seminato, proprio come facevo da bambina, perché io sono nata in campagna e ho visto praticamente attraverso mio padre, che mi ha dato veramente degli insegnamenti che ancora oggi per me sono dei valori e quindi tra culture e tradizioni della nostra terra io cercherò di volta in volta di coinvolgere tutti voi attraverso il beneficio dell'arte, il benessere ambientale, ecco, come dicevo, la musica, i benefici che noi ritroviamo attraverso la musica, il cinema e tutte le culture e le tradizioni dei nostri posti. che dire, io spero che questo mio progetto possa arrivare anche a voi e con il mio entusiasmo di coinvolgere tutti voi dal Brasile finché anche voi possiate collaborare al progetto di Brunella Smile Forever, che sono io l'ideatrice conosciuta come Alverini Brunella. Ecco, voglio salutare anche l'emittente radiofonica, perché tutte le dirette saranno trasmesse anche in diretta radiofonica Stazione Universo da Firenze, ecco, quindi vi salutiamo tutti voi che ci seguirete e vi invito a mettere sempre il like alla pagina My Life di Brunella Smile Forever. Ecco, un abbraccio a voi tutti e seguiteci sempre perché tutte le dirette non sono mai uguali, ogni dieta è interessante e vi daremo suggerimenti e consigli per come migliorare il vostro stile di vita. Da Brunella Smile Forever a voi tutti un bacio!